Eccoci ritornati in diretta. Vi avevo introdotto la presenza di Don Angelo prima della pubblicità, eccolo qui in studio con noi. Ben trovato, ciao Don Angelo. Buongiorno a tutti, grazie. Ieri avete ripercorso nel corso della preghiera del Santo Rosario questa giornata mondiale della gioventù che abbiamo detto già diverse volte essere stata una con i numeri più alti, 5 milioni di giovani, addirittura secondo le statistiche ufficiali, probabilmente molti di più. Papa Giovanni Paolo II in quei 5 giorni, dal 10 al 15 gennaio del 1995, oltre ad aver incontrato le autorità locali, i vescovi, si è rivolto direttamente ai giovani. E' stato un viaggio dedicato esclusivamente a loro e io vorrei partire con una domanda che il Papa ha pronunciato nel corso della Grande Veglia, prima della celebrazione conclusiva di questo appuntamento. Una domanda che voglio per certi versi ribaltare e riproporre a te. Cosa si aspettano la Chiesa e il Papa dai giovani? Sì, certo, è una domanda che anche se sono passati più di quasi 30 anni è ancora molto attuale perché la Chiesa chiede qualcosa ai giovani e il Papa, dicevo ieri, chiede ai giovani la gioia, la gioia dell'essere mandati. E' una gioia che i giovani hanno dentro perché hanno quella certezza che la risurrezione c'è, forse più degli adulti perché riescono a vedere in quella luce, in quella speranza in realtà il loro futuro. E quindi sono proiettati su questo, questo chiede la Chiesa ai giovani, di guardarsi dentro e guardarsi dentro quel Dio che li apre al futuro, al loro futuro. Tu hai parlato di fiducia ieri, lo abbiamo ascoltato anche prima, una fiducia che direi è a doppio senso, nel senso che è ascendente, cioè dei giovani o comunque di tutti verso Dio, ma anche discendente, cioè di Dio verso appunto le persone. Ed è probabilmente questo il presupposto fondamentale che poi porta ad essere una persona gioiosa, se vogliamo. Il fatto che sa di essere degno di fiducia, possiamo tradurre in questo modo, una fiducia che poi deve essere corrisposta, giusto? Certo, e la nostra fede è sempre una risposta, è una risposta a Dio che ci sceglie, non è mai solamente un nostro slancio. E nei giovani questo è fondamentale, perché loro, soprattutto oggi nel contesto sociale che viviamo, non sono ricchi di iniziative, hanno una sfiducia. E quindi sapere che Dio li ha scelti, li aiuta a camminare, a continuare a camminare. Senti Don Angelo, in quel contesto Papa Giovanni Paolo II ha rivolto un appello importante, giovani. Vi chiedo, ha detto, di costruire ponti di dialogo e comunicazione con i vostri genitori. Io vorrei con te affrontare brevemente anche questo tema fondamentale che è di estrema attualità, che è quello della questione educativa, anche perché stiamo vivendo i postumi, gli strascichi della pandemia, del periodo più duro e crudo di questa tragedia che ha coinvolto tutti quanti noi. E i giovani, anche in base a ciò che dicono i più esperti, coloro i quali sono coinvolti direttamente nell'educazione dei ragazzi, dicono che appunto per questa generazione è stata una tragedia immane. Tra l'altro voglio ricordare, visto che ci siamo, che questa mattina Papa Francesco sarà presente anche agli stati generali della natalità, quindi parlerà poi in maniera specifica non solo del problema giovanile, ma anche di quello che è stato definito l'inverno demografico. Don Angelo, io ti chiedo allora, da dove bisogna ripartire 30 anni dopo Manila, perché i giovani, le famiglie tornino anche in qualche maniera ad essere più uniti, a camminare sulla stessa strada? Sì, certo, è fondamentale il tema educativo, una domanda alla quale si cerca continuamente di rispondere. Nella scuola, qui a San Giovanni Rotondo stiamo proprio riflettendo, mettendo insieme la parrocchia, la scuola e le altre istituzioni. È bello quando un genitore dice, mi sono seduto accanto a mio figlio e ho dialogato, perché in questi ultimi anni soprattutto la società ha corso troppo veloce. Quindi tra genitori e figli si va su due linee parallele, non si capiscono più. E questo non capirsi più può essere risolto solo in un modo, sedersi a fianco. Quando un genitore smette di sedersi accanto a suo figlio e dialogare, stare a fianco a suo figlio e cercare di trovare insieme un cammino comune, alla fine non ci sarà mai quell'intesa. E soprattutto anche quella linea continua che dal passato si unisce al presente e si apre al futuro, perché poi è questo il vero problema, portare quei valori dal passato al presente e proiettarli al futuro. È una sfida importante e credo che ovviamente senza voler utilizzare anche troppa retorica una componente importante la rivestano anche le parrocchie in questo caso, soprattutto anche la presenza di educatori, sacerdoti che comunque abbiano a cuore le famiglie e le giovani generazioni. Papa Francesco tra l'altro lo scorso anno nel corso del decimo incontro mondiale delle famiglie ci ha tenuto a puntualizzare quella che deve essere una caratteristica delle parrocchie, vicinanza alle famiglie, famiglia nelle famiglie, se vogliamo estendere un po' il discorso. Ma per proiettarci anche alla giornata mondiale della gioventù di Lisbona, quindi la prossima che vivremo tutti insieme nei primi sei giorni di agosto, una domanda che poi è la domanda che un po' tutti si fanno, quali giovani porteremo a Lisbona nella capitale portoghese? Certo, noi come diocesi ci stiamo preparando ed è bello perché noi porteremo giovani di diversa età, porteremo neomaggiorenni, alcuni anche che non hanno compiuto 18 anni ma sono prossimi alla maggiore età, e porteremo giovani universitari, universitari che hanno già un'esperienza fuori nel mondo, hanno un'esperienza nel nord Italia dove vivono, e noi porteremo questi giovani che metteranno insieme i loro sogni, è questo fondamentale perché arrivati a Lisbona, incontrare il Papa vuol dire deporre i nostri sogni, deporre quello che i giovani si portano, che forse può dare speranza, ecco noi da Lisbona ci riporteremo indietro l'immagine della speranza, guardando le immagini di Lisbona subito dopo, quando torneremo diremo questa è la speranza del mondo, è della cosa più bella, perché poi in un mondo dove non c'è più fiducia, non ci si fida più l'uno dell'altro, guardare un'immagine e dire questo sarà il mondo, è una cosa bellissima credo. Per chiudere Don Angelo, abbiamo parlato di questo rapporto che ci deve essere tra la parrocchia e i giovani, gli educatori, i sacerdoti, parlaci un po' delle attività per i giovani, e comunque organizzate anche dai giovani, nella parrocchia di San Leonardo Abbate, che ricordiamo essere la chiesa matrice di San Giovanni Rotondo. Sì, le attività che noi facciamo con i giovani, oltre agli incontri formativi, una volta a settimana, l'idea che davvero ci sta a cuore come comunità parrocchiale è vivere la parrocchia come luogo dove stare. Noi viviamo, e i giovani soprattutto, vivono la velocità, la velocità della società, la velocità degli eventi, le locandine, i social, quindi questa immagine, questa pubblicità di immagini. La parrocchia è un luogo dove stare, rimanere fermi, vivere le relazioni. Ed è una cosa bellissima che serve tanto anche ai giovani, avere un luogo di riferimento, avere delle persone di riferimento, sapere che quel luogo simboleggia per loro una casa. È davvero quell'immagine che ci portiamo dentro di quel desiderio dei discepoli di Emmaus, resta con noi, che rivolgono a Gesù. Restate con noi, giovani, rimanete fermi, state, perché qui incontrate il Signore che è la vostra gioia, e lo incontrate nelle persone che ci sono in parrocchia, nei volti delle persone che si affacciano in parrocchia. Poi, permettimi, anche voi siete fortunati come comunità parrocchiale, perché siete al centro di San Giovanni Rotondo, per chi ci sta seguendo e conosce un po' la nostra città, la città di San Giovanni Rotondo, la parrocchia di Don Angelo, di cui Don Angelo è vicario parrocchiale, appunto, è quella dove c'è la statua di Padre Pio, la famosa piazza Padre Pio. Dunque, essere al centro della città, credo che sia un elemento di responsabilità ancora più forte dal punto di vista dell'educazione giovanile. Allora, Don Angelo, io ti ringrazio per essere stato con noi. Auguro a te, giovani della parrocchia di San Leonardo, un buon cammino verso la giornata mondiale della gioventù e salutaci Don Stefano, il parroco, che ci è tanto caro. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.